La siderurgia affronta un periodo nerissimo. Le aziende italiane importano da Russia e Ucraina rottami ferrosi e nickel. Rincari energetici e crisi degli approvvigionamenti stanno mettendo a dura prova il settore. Soprattutto sul nickel è una situazione fuori controllo. Lunedì mattina eravamo sui 25-30 mila dollari la tonnellata che sono stabili da alcuni mesi. Alla sera del lunedì siamo arrivati a 45 mila-50 mila dollari la tonnellata. Ieri mattina alle 8 e un quarto, quando è stata chiusa la borsa, abbiamo sfondato le 80 mila dollari la tonnellata. Questi altri aumenti stanno diventando insostenibili per molte aziende. Le imprese sono impossibilitate a produrre perché affrontano costi superiori alla marginalità e quindi sono costrette a chiudere piuttosto che a produrre. Che è il paradosso che stiamo avendo adesso in alcune aziende italiane, tra cui la Cogna Cè Speciali, che ha detto che andrà a chiudere pur avendo il portafoglio pieno di ore. Arinox arriva a Trigoso, riesce ancora a tenere testa agli aumenti, ma il futuro preoccupa. Per quanto riguarda l'energia elettrica, noi abbiamo avuto storicamente negli ultimi due anni delle bollette mensili che si aggirono sui 300 mila euro. La bolletta di gennaio superava i 750 mila euro. Sul metano forse la situazione è ancora peggiore perché noi arriviamo da un consumo medio di 100-150 mila euro al mese a una bolletta di gennaio vicino alle 700 mila euro. Per la prima volta nella storia dell'Arinox il costo di produzione connesso all'energia fosse di gran lunga superiore a tutto il costo del personale. Quindi spendiamo più ad acquistare l'energia che a pagare gli stipendi delle 260 persone che ogni giorno vengono a lavorare in Arinox. Tutto questo, si teme, ricadrà a breve sul cliente finale. Può essere la lavatrice, il telefonino, piuttosto che la macchina, che prima compravano a 50, a 100, a 150 euro. Quindi quello che noi temiamo possa accadere è che ci sia una fortissima contrazione dei consumi che si ripercuoterà poi ovviamente a catena, a ritroso, in un calo degli ordinativi nelle aziende e quindi poi alla fine con un problema occupazionale.